Quelle persone che sono morte sono morte perché noi potessimo essere liberi, quelle persone che sono morte sono morte perché oggi e domani l'Italia fosse un paese capace di seminare speranza e di seminare pace. Allora ho finito da Presidente del Consiglio, io sono qui soltanto per inginocchiarmi di fronte alla storia del nostro paese e per dire però tutti insieme che questa storia ci deve insegnare a non perdere mai i nostri valori e far sì che l'Italia sia portatrice sana di pace, di entusiasmo e di bellezza. Abbiamo bisogno che nel ricordo della resistenza, di questi giganti che hanno dedicato la vita e qualcuno di loro è dovuto morire, pensate alle lettere dei condannati a morte della resistenza, quanti brividi fanno vedere a ciascuno di noi, nel loro ricordo costruiamo un'Italia più bella, più giusta e impariamo, soprattutto voi più giovani, che quello che è stato fatto è stato fatto per voi, è stato fatto per noi, è stato fatto per rendere l'Italia un paese in grado di tornare a sorridere. Dal profondo del cuore grazie a tutti i sopravvissuti, alle comunità e alla città di Marzabotto.